feldemuth flechtarn usato seconda scelta in effetti vediamo questo cappellino colore molto sbiadito alle volte possono essere leggermente danneggiati con usura eccessiva piccoli strappi macchiette resta comunque funzionale due fori di areazione per lato cerchiati da borchette metalliche colore verde cappellino in oggetto a una taglia 60 in effetti la vestibilità è molto sulla sornità del capo abbiamo una testa di manichino molto piccola e vediamo che il cappellino non è eccessivamente largo non calza fino alle orecchie rimane come tutti i feldemuth molto sulla sommità del capo l'ideale sarebbe avere la testa con capelli molto corti cucito in varie parti molto solido resistente la visiera è tutta ricucita bordata all'interno vediamo che non è foderato il label riporta la taglia e l'anno di produzione quando è leggibile la composizione all'80 per cento di cotone 20 per cento di tessuto sintetico che lo rende resistente vediamo l'è